Buongiorno a tutti voi, buongiorno da tutti voi, da me e da... Che c'è? Guardate questa patata, amore, tu sei bella, ma quanto è bella questa pappadina, questa patatina. Vediamo se sta facendo il pollo, ancora no. Amore della mamma, amore della mamma, ciao ciao ciao, patatina della mamma, patatina amore. Buongiorno, buongiorno la mia patatina, buongiorno luce luce dei miei occhi, luce luce dei miei occhi. Ciao patatina, buongiorno, saluto a tutti quanti, ciao. Ciao, da me e da Ariel, sentite le fuse. Un buongiorno da me e da questa bella creatura. Ciao. 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 Ciao.